carte, mi annuncia a gran carte. Direttore è arrivato il dottor Pancalli. Ma faccia passare subito. Bene, vuole accomodarsi? Si accomoda. Salve capo. Salve Piero. Vieni, vieni avanti. Ti vedo in forma e in ottima salute. Accomodati. Ho capito, devi chiedermi un favore, l'hai detto. I tuoi favori mi costano viaggi all'aeroporto di fiumicino, visita all'hotel eccetera. No, 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 niente di tutto questo. Questa volta si tratta di un convento, un relativo orfano proprio. Un convento? Lasciami dire, è un servizio che avrebbe dovuto fare novelli, ma la moglie mi ha telefonato che il marito purtroppo si trova a letto influenzato. Non avevo altri sotto mano e così ho pensato che potevi farlo tu. Scusami, so benissimo quello che stai musinando dentro di te. No, no, non devi scusarti affatto. Ti assicuro che mi fa piacere. Servirà a interrompere la monotonia dei miei soliti servizi e sarà una nuova esperienza. Non mi è mai capitato un mondo così semplice, vero? E quando dovrei partire? Ah, subito, perché il servizio devo passarlo nel numero di Natale e Capodanno. Belli fotoreporter che desideri. Questo segno consegnerai al padre guardiano del convento per le loro beneficenze. Buon viaggio e buon lavoro. Grazie.